La realizzazione di un'area temporanea attrezzata in via del riposo destinata ad ospitare circa 300 persone rom è stata al centro di un'animata riunione di commissione welfare alla presenza dell'assessore Roberta Gaeta presieduta dalla consigliera Maria Caniglia. Una questione molto sentita soprattutto dagli abitanti della zona a ridosso di Poggio Reale che temono l'insorgere di situazioni di degrado e insicurezza. Per anni quell'area in via del riposo ha ospitato un campo rom successivamente sgomberato. Dopo gli interventi di bonifica il sito accoglierà un insediamento temporaneo per 300 famiglie già seguite dai servizi sociali del comune. Noi stiamo parlando di un'area attrezzata non di grandissime dimensioni e soprattutto di un'area attrezzata che verrà monitorata e tenuta in collaborazione anche oltre che dall'amministrazione comunale anche controllata, monitorata dall'ASL, dalle associazioni, dagli enti affidatari dei servizi. Noi tra l'altro abbiamo anche una progettualità importante di inclusione sociale scolastica per i bambini rom attraverso la quale noi abbiamo potuto conoscere in maniera più articolata, più approfondita anche molte delle famiglie. Quelle che andranno in quest'area attrezzata, quindi quelle che verranno temporaneamente accolte in quest'area attrezzata, sono famiglie conosciute con cui noi abbiamo costantemente dei rapporti attraverso i servizi sociali, attraverso le scuole, attraverso gli operatori a cui affidiamo queste attività. All'incontro ha preso parte anche un rappresentante della GESAC che ha manifestato preoccupazione per il rischio di nuove discariche. La presenza di volatili che ne deriva potrebbe infatti arrecare in tralcio agli aerei in transito nello scalo di Capodichino. Questa necessità chiaramente nasce dall'esigenza di contrastare le condizioni degradate e insostenibili di alcune popolazioni che vivono proprio in quell'area. Quindi è un miglioramento delle condizioni di vita non soltanto di queste persone ma anche dei territori stessi. Perché spesso dico tutto quello che non si riesce ad affrontare come problema, a guardare come problema e quindi a trovare delle soluzioni, poi lo si subisce come un problema ancora più grande.